Sono stato strabiliato da questa città, questo che vedete dietro alle mie spalle comunque per me è stata una sorpresa assoluta. Sono a Matera per inaugurare 5 lire, un percorso magnifico che mi ha portato a conoscere i proprietari che hanno voluto investire appunto in un'attività in cui si facesse la pizza in teglia alla romana. La filosofia del posto è quella di massimizzare la qualità di ogni ingrediente, quindi nulla è lasciato al caso, dalle farine, quindi la base della nostra pizza, agli ingredienti più ricercati che poi vengono utilizzati durante la cottura e farcitura della pizza. Grazie a tutti! Da quando ho iniziato ho lavorato proprio in questa direzione, nel senso che io volevo portare qualità sul mio prodotto e innovazione sul prodotto pizza, perché arrivavo in un momento storico in pizzeria in cui un po' tutto era stato già fatto, quindi inventare nuovi prodotti, inventare nuovi abbinamenti, questa è stata la mia sfida. Per me l'estero oggi come oggi è un punto di arrivo, perché insegnare all'estero è la cosa più bella che c'è. 5 Lire Matera è uno dei miei progetti italiani ed era tanto tempo che non ne sceglievo uno. E' importante la ricerca delle materie prime, è importante ricercarle nel territorio in cui ci troviamo sicuramente, è importante tenere la qualità del prodotto sempre alta. Quello che abbiamo voluto fare è stato proporre comunque dei prodotti di alta qualità, ma con intelligenza, cercando di tenere i prezzi un po' più bassi. 5 Lire Matera vuole far fare un'esperienza al consumatore finale, non vuole dar da mangiare baffa.